complimenti complimenti volevo fare i complimenti ai cartoni d'italia ai cartonati dei campioni d'italia diciamo che nello scempio del campionato italiano forse è la squadra che merita di più di rilinciare un campionato mediocre mediocre lo vediamo nel campo europeo cosa siamo riusciti a fare a livello di champions league vi capisce gioite gioite facebook tutti gioite gioite io io vi metto questo articoletto qua un attimo no sono gioie passate avete capito sono gioie passate ognuno giusto che se la goda come vuole no ma è qui ragazzi guardatela bene venti volte juve era il 1982 la gioia che voi avete oggi di 18 scudetti andati 20 io l'ho già vissuta quando avevo 12 anni quindi non rosico non rosico però allo stesso tempo complimenti vediamo da qui in poi di gioire di nuovo dai un altri 6 7 anni se volete ma non ci arriverete mai almeno finché finché morte non mi separi quindi godete lo sto 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 ventesimo la la seconda stellina aggiunta aggiunta in cartone perché non sono 20 e se un interista la dignità deve dire che ne ha 19 non 20 comunque vabbè godete la godete io me la sono tutta 20 quanti 40 40 anni fa come siamo messi ragazzi juventus uber alles tutto resto e noia e non ho detto gioia ciao un abbraccio a tutti e ci stalo sfottò non fate per malosi